Miranda piccolina, ciao! Allora resterai sola qui in canile perché è stata adottata Carrie, la tua sorellina Chiara. Eh sì, perché tutti vogliono i cuccioli chiari. E tu che sei bellissima tricolore con queste belle zampettine, sei stupenda, non ti considerano come lei. Ma cosa ci trovano nei cuccioli chiari? A me piacciono tanto quelli scuri, come te. Con queste orecchiette da lupetta, tu sei una taglia media, non sei grandissima. Hai tanta paura, non c'è tempo di stare con i cuccioli qui in canile. E il risultato è la loro timidezza. Poi vanno nelle famiglie con tanta tanta paura, ma con l'amore riescono a superare tutto. Tu sei dolcissima, si vede, che chiedi solo cocco. Ti metti bella composta, così sei bellissima. Fai vedere quegli occhioni, quanto sono belli. Guarda, guarda. Che cina mia. Sono qua. Eccola. Miranda, che meraviglia di cuccioli. Che meraviglia. Che cosa stai pensando? Non ti preoccupare, adesso ti riporto dalla sorellina. Però lei questo fine settimana se ne va. E tu? Tu resti sola. Come faremo? Invece se arrivasse una richiesta, partiresti anche tu. Speriamo, piccolina. Ciao Miranda, sei bellissima. Buona fortuna.